Oggi vi porterò a vedere una bellissima villa di Bacoli con una vista mozzafiato. Mi raccomando condividete e fate un bel mi piace. Ci troviamo a Bacoli presso la Villa Sabella dove a fine anno realizzeranno un bellissimo cenone di Capodanno. Infatti vi invito a partecipare e prenotare per questo grande evento esclusivo che si terrà presso questa bellissima villa. Se vedete qui c'è una vista veramente mozzafiato. Si vede tutta la zona flegrea. La prima sala che vi faccio vedere è la sala esterna che è circondata da specchi che vi permetteranno di godervi tutto il panorama nel pieno relax. Guardate quanto è bella questa sala. Stupenda veramente. Adesso vi porto a vedere la struttura all'interno. Questo è un bellissimo albero che troviamo all'entrata. Ora vi porto a vedere la sala superiore. Guardate questo corrimano com'è bello. È stato decorato tutto di Natale con delle bellissime ghirlande. Ed eccoci arrivati alla sala superiore. Guardate che bella. Qui il soffitto è a cassettoni. Poi c'è questa sala dove al centro ci sarà un albero. E abbiamo il soffitto tutto dipinto con dei bellissimi affreschi. Guardate che vista si può ammirare da questa sala. Stupendo ragazzi, stupendo. Veramente bello. Vi piace? Vi è piaciuta questa villa che vi ho fatto vedere dove a fine anno faranno un bellissimo cenone? Fatemi sapere con un commento e mi raccomando portate sempre Napoli nel cuore. Ciao! Ciao!